Sapefa, tutti i giorni a 9h30 su Alta Frequenza, la Corsa è il Savoir Faire, con Michael Andreani. Allora, vi presentiamo più tanto quantunque a giornalisti sportivi. E, per esempio, a Telefoot daremo l'occasione di riparlare, bellissima carriera, appassionato di noi di boxe, mica solo di ballo, parlaremo di tutti i aspetti. E poi, di noi, non si tratta mica, non si sapeva, ma infine, di un giornalismo sportivo, di gommi i vaci, di gommi i uni, di maniera si vera per il mistero. Infine, tutta questa settimana sarà messa approvata perché, e principiamo dunque con il principio, come siete i giornalisti sportivi europei? D'una maniera strana, non è nemmeno un percorso normale. Io ero a radio, a radio c'è un mistero che è il realizzatore del radio. Allora avete fatto le interviste, avete fatto i commedianti, avete fatto i pezzi del radio, avete fatto tutto. E poi ho cominciato a fare un po' con la televisione, ero a Rennes, e ho cominciato un pruncio, sono stato sempre un pruncio. Stavo un po' lì, ma ero sempre brancato un altro. E poi, un giorno, un amico di passaggio, una nottadetta, accettata perché la Giavera, che ho in pochi giorni, ha avuto più di 80 anni, si occupava dell'emissione del sport, del marseillaco, all'omenica dopo mezz'anno, l'artista e il sport. Edega, che ha scoperto, per esempio, Merey Mathieu. E è passato a Rennes, l'ha giocato un colpo alle mani, l'Asia, a mangiare insieme, ha detto, ma non ti interessa mica del vostro sport? Ha detto, come mi interessa mica, c'è sempre l'equipe sotto il braccio, c'è una di un mica, un overlobs, una di un mica, ha detto, l'altro, l'altralizzatore non mi calcolò che nemmeno assai, ma... Dice, beh, stas, non ne parlo a Marseillac, ma io ho pensato così, è che la religione così, il paese è bravo, e poi è bravo, di natura. E un po' che io andavo, poi, sul telefono, gli ho pigliato l'ora, la paese, dice, ma Rennes Marseillac c'è un problema vero. Io, al principio, gli ho detto, quello è che si ammusa a fare qualche folla. E no, sono andato in paese, gli ho detto, Rennes Marseillac. E qui c'è stata un affare che è straordinario. Io penso che non mi ingaglio come realizzatore, domando quanto c'è camera, dice, ma l'abbiamo un'emissione l'omartessere, che si chiama Stato 2, ha detto loro, quanto c'è camera? Dice, chi ne ha fatto le camera? Ha detto, come? Dice, no, no, io ti voglio davanti a camera. Ha detto, allora, qui cambiano l'affare? Ma come, come dira, il sport, c'è stata altre cose, ho ripetuto. Non ho detto, ma che è ripetuto, ho segnato subito, ho cambiato. Ho cambiato gli amiri, subito, subito. Ma parla di questo punto, l'azio che ti ha detto sul percorso, dopo una piccola canzone. Sabe, fa, non ti ha avuto sempre con il Petro Gangioni, parliamo di vostro percorso, e dici a te, io, ti ha visto l'equipe sotto il braccio, un nuovo ops, come vedi un'altra passione del sport? È qualcosa che esce dalla famiglia, vengono dall'altro a fare? Non, mica la famiglia, non, no, babbo, 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 sponso, sappiamo manco ciò che dire. Non è venuto qui, qui da iasi, quando è stato cittato, quando è stato cittato, gioco in paese, faccio le corse, giochiamo a ballare, qui, in quartiere, non dove siete, non dove siete, giochiamo qui a cazone, qui a cazone, giochiamo a Casa Pina, che era la mia squadra, che stava accanto, e giochiamo contro l'actro, contro la barriera, non è venuto così. Poi c'è stato leggero, e quando c'è stato leggero, c'è stato leggero quasi tutto. A parte il volebo, che ero troppo più, ma c'è stato anche il basket, con la taglia che c'è io. C'è stato sei anni, sei anni guardi hanno le butte di handball, sono stato campione in cross e in pista, millimetri. C'è stato leggero quasi tutto, ma c'è stato un sport, l'avevo in me, poi c'è stato sempre... Il po' che c'è stato, io ne stacca, compravamo subito un mirroir sprint, ne ho ritrovato anche un po' che è ma, ma, ma salvo, quando si è venuto oggi, allora, torno alle Francia ne parliamo, sui tami, o il bar, o il bar da Bully, che era il corso del Gran Valle, tutti i giorni metti, metti in un tavolo, metti il primo, il secondo, il terzo e il maio giugno. E poi c'era la carta alle Francia, no, il sport per me è stato sempre più con la passione. E parliamo, dunque, di questi principi. Voi mi dicevi che erate piuttosto portato tanto a radio e a televisione. Ah, tutto affatto, io, quando stavo assento qui a Monte Carlo, c'era sempre realizzazione, sentivo una pezza, a me mi piaceva perché a radio faccio un'IA, mica a televisione, a televisione, ve la verità così infaccia. e sentivo sempre la realizzazione di Andrea Seu, e Andrea Seu l'ha conosciuto l'opera, mi ha lavorato insieme, l'ha letto un giorno, e gli ho detto, ma vado, ma vado se ne ha davvero. Allora, un giorno c'era un concorso, io, tanto in Parigi, dite, quando sono sottuto la facoltà di dritta, ho piuttosto una spesa di guattare notte a corso, in cui i cantaloni, in cui i fratelli vincenti, ecco tutto. E c'era uno con tuare una serie che ha detto, c'è un concorso all'ORTF, era l'ORTF che copria tutto, a radio, a televisione, tutto, era la stessa casa. Dice, c'è un concorso, l'avarista è davanti, dice, ma ti stori, ho fatto il teatro negli anni, perché quando ero io avevo fatto un po' con il teatro, e qui, ah, io stavo assento, non devo capire, non so mica, sono troppo passato di andare a vedere, ma l'ho fatto così, l'ho fatto a fare campare notte, teniamo una notte l'affare, e poi io andavo a passare l'esame, ma non ci crediamo mica. Allora io ho passato una volta, lui oltre, tre volte, se mi è passato a settanta, e se mi è unta a sei. E quando sono stato in disegno, beh, c'è stato un anno, un anno di stagio, come le dici, e sono sortito a capo di un anno, e sono andato a uscire in radio, e mi sono campato, io mi sono campato veramente in quella radio, tre anni mi sono campato completamente, faccio i pezzi di radio, faccio le interviste, c'è stato un'emissione, l'ora e mezza, in una città che si chiamava Vilo Vert, allora, l'Agnon Vilo Vert, Nante Vilo Vert, che mi hanno un paura a rire, e poi dopo c'è stato, c'è stato un'emissione, c'è stato un'emissione, assieme tutta questa settimana, con Petro Gangioni, saluta. Buongiorno. giornalisti sportivi, abbiamo parlato del principio della vostra carriera, a radio, e poi, dunque, a televisione, come si passano i primi passi così, a televisione, a demo, non a realizzazioni, ma qui, di fronte, a camera? Beh, se passano mica troppo bene, perché, io sbarco tanto, un sbarco, comunque, non è importante, due sbarco, un più grande equipe di televisione, che c'è stato in Francia, di tutti i tempi, c'era Pasteur, c'era Gildas, c'era El Cabas, c'era De Virieu, c'era Mujotte, c'era, l'hanno chiamata, la più grande squadra, la squadra leader group, e, è un savere nemico, che è un principi, è un'emica, vedi che tagliò lì a trent'anni, penso che tagliò un mistero, e mi ritrovo così, ho giornale, ho giornale, ho giornale, ho giornale la sera, e la fine, durante due o tre mesi, non era mica troppo schietto, Pasteur faceva un po', con un po' comuso, e poi dopo, dopo è venuto, è venuto un colpo, non avevo più paura, non avevo, e tutta la mia carriera, dopo non avevo paura, di una camera, di un micro, di un micro, perché sennò si soffre, il mistero, c'è stata paura, ma che non è avuto. E giusto appunto, perché parliamo di un certo, tu sapete far, pari di unico, che principiano così, che si lanciano, chi è, ognuno, ognuno, la materia, che vuol dire, che vuol dare, che vuol dire? No, i giorni, l'oggi, c'abbè capisce, io, quando sono stato patrone, di Spottananta 5, gli ho piatti, gli anni giornalisti, ma chi si ottiene, nella scuola, del giornalismo, a Camerano, le facciamo i capponi, che le sono nate, in quella affa, ma noi, noi, in un mondo, non c'era nulla, quando erano a Mizziettello, non c'era neanche un posto di radio, in casa, non c'era nulla, lo tutto, allora ci siamo tutti forzati, un po', allora oggi, qui sono l'animico, un'animico, un'animico, allora poi non avevo il trac, il trac, anche i grandi comiglianti, tra le cose, ci credo che l'anno, non credo che non le nemmiche, poi, parli che, ciò, gli ha avuto, poi sa buono, l'unico, mi è abbastanza buono, perché, non l'hanno mai avuto, poi l'hanno avuto, questo principio, ma, ci ha detto oggi, oggi, so, so, centonare nel milione, di, 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 che vuole, che vuole, un mestiere, quando gli ho fatto un appeto, parli 5, c'erano 85 domande, aggiunti, un'altra catena, chi si è fatta, hanno avuto, 300, 400 domande, e poi, gli ho fatto, l'arregistramento, vi mostrano, allora, vi dico, l'affare è duro, è duro, perché, ci ha fatto una scuola, perché, la va, qui, di, non so, te nemmiche, una scuola, occasioni, come un'area, meno, ce ne guagge più, ma, c'è un affare, in la vita, ci ho, appassione, e ci ho, tanabono, che, dico, ma, n'importa chi, che, dovuto, anche, un nuovo, boll, che, dovuto, n'importa chi, c'è un poco, un poco, di, 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 ma, ci ho, assai, volentà, e, tanabone, e, stranierente. C'è, mi ascolta una canzonetta, e, mi ritrova subito. Saperfa, non, tanto, che si lanciano in un mistero come voi siete statudioni e vi siete lanciati giusto appunto e parliamo d'un sapefa, o sapefa sarà acquistà, c'è, 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 sottini dalla scuola, o più spesso, ma, non sa acquistà mica soprattutto, a un fronte luttare non sapefa qui? No, c'è due cose, se, 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 la televisione, c'è di nuovo qualcosa che passa, c'è, c'è gente a televisione che non c'è un nemico, e c'è questi grandi giornalisti che non c'è un nemico che aveva, perché un nemico contatto con il pubblico, c'è un contatto con il pubblico, che aveva la boccia, che aveva il suo sguardo, che aveva, se n'importa chi, c'è un pubblico, va c'è tesso, e voi ci affidurà sempre a camera, diciamo sempre qui del radioformato, la camera si affidura un dobbondo, un dobbondo del progettivo, per sapere, per andare a cercare, come quando si è promizzato un poco per pescare, è l'estesa. D'accordo. Se ti avete acquistato, ti avete detto qualcosa, perché dopo c'è la sincerità, la sincerità del pubblico non si sbaglia mica, non si sbaglia mai, e poi c'è un altro affare, noi, pure la mia verità, noi eravamo liberi di niente n'importa chi, e tanto è un bel domestile, io quando l'equipe di Francia vocava male, dicevo, quella vocava male, quando si intetiene vocava male, e anche la stiglia, dopo mi ne volivano qui, ma poca premura, perché c'era l'ignità, l'ignità di dire la verità, oggi un po' di più, oggi un po' di più, qui dove c'è una catena, se la catena ha segnato un contratto con l'equipe di Francia, un po' più di male l'equipe di Francia, tanta l'era sono, non chiamano, e oggi non so più tutto affatto i giornalisti che facciano un commento, sono animatori d'antenna, ve lo mandano i video là, ve lo mandano le due in avere, ma sono obbligati a travestirci un po' la verità, perché se no si faccia una maniera non ti dite. Cosa è infatti una maniera di alisciare l'angolo, di dire i cosi, non si troppo più, per far piacere, per non scumolare piuttosto? No, l'ho giusto una volta, ho una mia gardiera, avevo tutti i contratti della boxe nel mondo, avevo tutti i contratti di Muhammad Ali, e non ti ha fatto, ti ha fatto tutto perché conoscevo tutto il mondo, ero amico con Manzoni, e quando Manzoni si ritira a fare un campionato del mondo che magari non ne fosse, era una vera catastrofe, ma io l'ho comprato quantunque. Allora, quando l'ho comprato, dopo non posso più dire, quando sono all'antenna, non posso più dire che è negativo, e tanto, il direttore se ne ha visto, ma ha detto, hai ragionato l'altro giorno, perché? Ha detto, io ti faccio comprare, non posso meccare, ho del pubblico, perché non è nemmeno buono, e ho visto tanto che c'era qualcosa che non andava mica, sei giornalista, dell'aspetto commerciale della catena, tanto l'eco, non è più un vero mestiere. E tanto, qui si ritrova spesso, vi ringrazio Petro, ci ritroiamo domani, Marco, ripasi, e guida di Sapefa, a domani. Buongiorno a tutti, siamo in marco, rilamano e felici, di ritrovare una volta, per Sapefa in compagnia, buonissima compagnia, giustario, con Petro Gangioni, saluta. Saluta. Parliamo di vostro mistero, di un allistus sportivo, di un allistus linosi, parla appena di sport, e di tutto accanto, allora, non ti ha un metodo, che ci ha a piegare, di dire, per i giorni, perché i giorni ci ascoltano, anche a mani, non tanta frequenza, e che si lanciano di più in più, anche in Corsica, perché si sa che c'è una bella passione, un po' di giornalismo, per via della politica di noi, e non tutto sport, non ti piace tanto, come? E la ti piace tanto, perché a gente, vengono i giorni, che vengono, i giorni, non ne conoscono, né Telefoot, ne conoscono, ma c'è sempre, c'è sempre qualcuno, un conedito, che dice, ecco qui, ho fatto le misure, così, bocca caliente, sopra 45 anni, vengono i giorni, a vermi, bocca caliente, e gli dico sempre, più andete, e più sarete numerose, e più sarà difficile, e questo, e questo, e non si può meccare altrimenti, perché così, ma, ma, quello che si crede, quello che, quello che prova, con la faccia che ha provato, non è mai possibile, perché sono tutti qui, che sono state nelle scuole, sono state nelle prime, da Lille, da Bordeaux, da Parigi, non, questo è troppo difficile, ma, quello che si arrampicchia, allora, c'è sempre che aveva paura, di noi, di cominciare più, è meglio cominciare a sé, forse in un giornale, in una radio, e poi, e poi, e poi, quello che ti ha qualcosa, si deve rimarcare, un po', un po', come andava lì, o i carori che cominciano, e dopo è rimarcare, non è mai, non è mai un percorso, vado, e ce la dì da subito. Un affare psicologico, l'etilità, cioè, è veramente, un grosso mentale, come un sportivo, infatti, se lo tende, in un'altra strada, cioè, è un mentale. ma in tutta competizione, in un mondo, per ieri, non importa chi, quando si fa una competizione, siete obbligati, di un caos strumento, di mica vedi un accanto, perché tanto vi serve nulla, tanto non si vede più, una squadra qui, siete solo, e quando siete in televisione, siete solo, non facciamo la camera, non c'è mica solamente qualcuno, allora, c'è di un po' con il personale. Personale, di colpo, e si può pensare, malgrado tutto, al saspetto della squadra, si sa, anche se, una domanda, mi viene guidato a capo, perché, d'après voi, c'è di più in più decisioni, al di là di appassioni, c'è qualcosa, che motiva, giusto appunto, di questa, davanti alla scena, o, una motivazione, che può essere buona, ma a volte, può essere mica troppo? No, ma davanti alla scena, davanti al volume, questo è piuttosto, per chi fa cena pulita, chi fa cena malata. No, al sport c'è altre cose, hanno capito subito, che è una vita magnifica, per tu vivere il nuovo mondo, siete nel più grande stadio, nel più grande sale, conoscete i più grandi campioni, cioè, con tu, con la vita. Ultimamente, mi hanno rimesso, mi hanno rimesso una medaglia, io non voglio mica, ma hanno insistuto un po', che ha detto, ti dice, poi vuoi il tuo percorso? Ho detto, ma io, il percorso mi sono ammussato, una vita, l'avevo fatto anche un bel mondo, se ti avevo avuto i soldi, se ci avevo fatto un bel mondo, allora, un vero mico merito che dà, io non ne posso meccare, no, è una vita magnifica, questa, e oggi ho ancora più potere che non avevamo, perché oggi sono i mezzi, noi andavamo, facciamo argomento, facciamo tecniciè, facciamo un po' di tutto, a fare la gamba, io ci ho trovato in Argentina a parlare spagnolo, a parlare ucraniano, a chievo, allora sono tutto, sono un direttore incognito, sono tecniciè, sono tutto, sono vero e passato. Una gran zunetta, e ci ritroviamo subito. sapevano in talta frequenza, che Petro Gangioni, va continuare a nostri missioni, e si parla dunque, posto che lo si parla di un di unanismo sportivo, di sa famosa, oggettività, allora, che è un concetto, si sente, è normale, dappre se a me s'empara, a scuola, o allora, qualcosa di guagi, che si dovrebbe concepire, di maniera naturale, la famosa oggettività, quando si comenta un match, o mon è mica sostenibile. No, l'obgettività, va in quale dignità, se voi avete la dignità, se voi rispettete, e ti provate a dire, avere la verità, perché siete qui per qui, non siete mica un supporter, quando siete un journalista, quando siete un supporter, ci andavamo andando anche le banche, no, il journalista è il contrario del supporter, il supporter ha la passione, il journalista è il contrario, io quando stavo a Bastia, quando Bastia, quando Bastia era noi fa, ma i Bastia ci mi ne volivano, perché ce n'era una a radio, di chi è buono, che le faccia, le faccia a campare un mace, con questi amici, per esempio, la battaglia del servizio, e no, ma quando siete a televisione, ci sono le immagini, e poi, ci sono i momenti, l'equipo non mi capò, nel tanto è stato peccato a dire, allora, il dono dice, no, ma sei contro, no, non sono mica contro, no, ha giocato anche i soldi, della televisione, non tra Bastia, le poi non gli ho mai detto, e poi la Natale ha asato, ed altri ha asato, ma questi erano sotto, ma quando ho detto, un argumento, un argumento, c'è la sorta, nel 10 anni, sono stato onesto, perché è un affare, d'onestà. E' vero, cioè di, i cosi come l'ha detto, a suo punto qui, non ti ha di nuovo, rubato, corso, c'è dunque, questa difficoltà, poi, per cercare anche qui, per cominciare, per mica, di nuovo, è vero che è difficile ritornarsi, soprattutto, quando si faccia un'emissione, in una piccola radio, una piccola struttura. Ma tanto, c'è l'aspetto locale, io non ho mai conosciuto, questo, quando, quando, quando un paese, ti vuole, a chi parla di Francia, un diagramma, vedi, ci vuole, a chi parla di Francia, un diagramma, un diagramma, un neuromico, un neuromico, un nome orto, se vuole, se si comincia a fare, qui sta in casa, ad essere referente, poi, quando bastia, io cava, era nazionale, l'affare, e poi, se ero stato, bastia, e se lo si sentia, se lo si sentia, all'antenna, anche a me direzione, un giorno, mi aveva detto, ma a lui, non si è più credibile, quando tu mi dici, così e così, no, per te la credibilità, ci attende a uno, allora, non so che, per bastiarci all'epoca, non ero nemmeno contento, ci sono state, anche un poche riscontri, non vedi lì, se è passata bene, se poteva passare male, perché, io scemo, ne manca mica, non è stata, adesso, c'è una bella proporzione, ma è così, ciò fa così, ma, ho piano nazionale, non ne ho mai avuto, un capattolo, ma mai, mai, non ne ho, alcuno terreno, le branche, anche quando l'equipe corsa, io cavo, non ne ho mai, qualcuno, che mi è venuto davanti, ha giù, ha giù, ha giù, ha giù, ha giù, gli altri giornalisti, la giù, è in difficoltà, allora, cioè, credo che, che entri sentino, quando ho detto la verità, sentino, e vi ringraziano. È una frase di sincerità, torna, vi ringrazio, Petro Gangioni, domani, e beh, saremo già, gioi, e saremo di ritorno, un'ora e mezzo, con vosso, a domani. Salute a tutti, in antaltavreguenza, a Radulia Gurt, si capa vostre missioni, si appena fa, si parla di, si appena fa antichi, i dodi, ma di no, di cose appena più larghe, come i misteri, come il giornalismo sportivo, e temo qui, un bellissimo ambasciatore, di giornalismo sportivo, Petro Gangioni, buon giorno. Buon giorno. Se ti conosco dunque, per tutta la settimana, allora, parliamo di, di scontri, che ti è gomentato, rinò, per, su piccolo aspetto, rinò, di l'anecdota, come lo si dice in francese, che è il scontro, che va più, marcatto? Il scontro con un uomo, con una persona. Il scontro, nel senso di una partita di ballo, come intatta, chi è che viviamo più in mente? Se lo cittadino di essa uno, durante una gruppa del mondo, per esempio. È difficile, è difficile, non si può mica scegliere così, perché, perché i colpi di cura, insomma, i misteri, ce ne sono assai. E io ce ne ho uno, che quando, quando è arrivato il rumento, in 78, a Mar del Plata, in Argentina, quando l'equipa di Francia, comincia a avere contro l'Italia, e che tutto il mondo pensa, che l'hanno da calificare, è stato un marco, per me, per me, magnifico, perché, se vediamo una nuova, dell'equipa di Francia, è attenuta poco, un marco contro l'Argentina, si trisor, mette la mano accanto a ballo, mica non ha il tuo valore, tutto è cambiato, e andiamo, andiamo da base a Venale. questo, questo forse, ritenerà, e poi, a lui, è sicuro che, a diavare da tutto il mondo, ma è sicuro che, ma c'è le pastiglie, e, a lui, e fa, la gioca, faccio, commento, le guagge tutto, e c'è campione da vivere. E perché qui, era dito qualcosa di, che tocca a un popolo, tocca a largamente, trapassare il ballo. E perché, c'è mica, c'è mica, e io non ho un nemico, o poche, c'è che, c'era, c'era tutto, che allora, le corse, che non avevamo conosciuto, un coglione, tutti i dirigenti erano amici, qui erano, erano completamente in amicizio, non si parla mica, del professionalismo, si parla, che, 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 c'è tanto, differenze, l'affare è differenze, quando avete un commento, da Claude Pappi, è sicuro che, se siete differenze, che, se siete un altro numero, che, 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 ci ha portato, per un'entrenato, e penso che qui, e sono con ed, che, nostri intrattenni, parliamo dunque, di, 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 partiti, perché, che, si può essere, appena confuso, quando si parla di scontri, si pensa piuttosto a una persona, un corso che si barca così, in continente, un corso di 30 anni, che vuole essere giornalista sportivo, come è stato piatto la fare golà? Non so mica, non so mica, non so mica visto, per quando c'erano già 12 anni, che, 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 in Parigi, no, i primi tempi in Parigi, non mi sentiva, non mi sentiva, non mi sentiva troppo bene, ma quando c'erano già 8 anni, è vero, quando andavo a Roma, capivo, tutti, 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 i capatogli, il caffè, mi pareva essere andati altri, quando andavo in Parigi, era un po' differente, ma, questo, penso che tutti gli negozi, l'hanno campato, no, dopo, dopo sapere, un po' con l'accento, ma l'accento, l'accento, non mi ha mai detto nulla, oggi, oggi che oggi, ci so che mi riconoscono, l'accento, stanno i 45, 50 anni, come ti ho cambiato, sicuro, di incappatura, diciamo, edo nemmeno edo, ma quando parlo, c'è problema, allora, tanto l'accento vi serve, vi serve, perché, perché, vi singolare, per rapporto a quei d'altri. D'accordo, una maniera di identificare, e parlando, parlando, dell'accento, giusto appunto, ci sa che, in scuole, mi pare, l'accento è assai si vero, soprattutto, quando ci so, giovani, che vengono da Ruggioni, con un'identità, voglia di vorti, a Gorsica, o Sud-West, imparano, in certi luoghi, di nuovo, a perdere l'accento qui. Ah, ma io, soprattutto, non corso le disegne, ma così, ho avuto il primo premio, la prima annata, quando ero, veramente idioto, tanto, e, quando è nato, mi hanno detto, voilà, avete, ma trovate qualcosa, avevano ancora davanti, una babbezza, una battanghera, un po' bruciare il bardo, dice, ciò che tu fissi, un sforzo, è perdere l'accento, e tu, come perdo l'accento? Ma io, per me, non è un'unica accento, dice, ma tra l'accento, ha detto, ma l'accento zero, e chi è? Dice, è parigli, e se Toulouse, era stata capitale della Francia, sono i padigliani, che avevano l'accento, e hanno detto, ecco, qui se sono fuori, e tu, non è un'unica, la perdere l'accento, a me ne manca l'idea, ma, e, beh, quando erano in televisione, non è un'unica intesa, non è una remarca, né nulla. E, perché, può essere che, certi, voleranno, che, soprattutto, i giorni, o a fussini, diciamo, radioformati, in una stessa maniera, inquadrati, come si dice, in francese, non è un moule. il mio parianismo, qui, se quando andate in Italia, ogni giornalista, tra l'accento, la sua ragione, nemo, ti faccio attenzione, quando andate in altre, all'estesso, questo, questo è francese, un problema, è veramente, un capattorio francese. L'affare di cultura. Eh, sì, se ci fosse a Parigi, o l'Ile-de-France, come dice, eh, no, no, questo, questo è un affare, ma è vero, è vero, c'è tanto, a me, c'era Roger Coudert, solo aveva un accento, è così, ma, infatti, se è passata bene, è tanto meglio. Ma di volte, vaccino l'identità di a Parzoni, faccio il parzionaggio. Eh, voilà, e voilà, è ciò che dico, c'è qualcosa, tanto che faccio, se ti parecchia a passare, c'è uno che t'ha qualcosa, riferente. Una maniera di vasta, dunque, vi ringrazio, Petro Gangioni, domani uenari, ci compieremo i dia, sta settimana, passata proprio un fuo, e a domani. A domani. E se da compiere, pienamente bene, la nostra settimana, ma ci vediamo attorno sul piccolo giorno, su enari da mani, non talta preguenza, che lo sapete fare, Petro Gangioni, buon giorno. Buon giorno a voi. Un piacere di ritrovare, per l'ultimo giorno, della nostra emissione, a finire, non t'ha sospetti, di oi giornalismo sportivo, non t'ha, se di ogni generazione, perché i forze sono, chi ne uiriti, discutiti appena, con quelli, vi palesano a fare, se di ogni che voi scontretti, non t'ha un mistero, vi domandano i consigli, so qui, giusto appunto, a domandare qualcosa, sempre? No, mica sempre, perché, sapete, il tempo passa l'estero, io, paio giorni avanti, veramente i giorni, chiedi che vogliono non da giornalisti, oggi a me non ne conoscono mica, allora, c'è qualcuno che le spiega, se, se, e pensano che noi, che noi, se, 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 diante, non sa la vera, come a me, quando, quando, ho citato, mi dicevano, nel medicino, un'età, un'età, tra, 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 50, anni, mi pare, mi pare, mi pare, un uomo, un uomo, eccio, ma, il tempo ne è cambiato, i cateni ne è cambiato, la televisione ha cambiato, noi, noi, erano artigiani, oggi, disapprovisionare, noi, noi, noi mettiamo le mani in tutto, ci, 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 a sbrugliarsi, o io, ho ancora un micro, che tagli davanti, una marcia, a me, che ci metteranno da per noi, a trovare, oggi, oggi, non si passa più così, no, non penso, mi, che t'essene bisogno, di consigli, di settore, di guì, no, t'essene bisogno, di consigli, che sarà sempre, quando, quando, devo riuscire a qualcosa, e che, perciò, devo sfocare, in ciò che le piace, e andare più lontano possibile, e detenere più lontano possibile. Dicete, tu, che è un aspetto tecnico di noi, si sa che, non tra l'aspetto del giornalismo, che lo dice, come un micro, o come un camera, o, domandano, voltano, questa domanda di polivalenza, di più in più, c'è di Gatene? È difficile, è difficile, è un po' sopia, è un po' sopia che Gatene, che s'assumì, a ciò che ho conosciuto io, e le Gatene, che s'assumì, a ciò che ho conosciuto, sono le Gatene di Stato, sono lui a tre, perché l'altro, il telefono, non ha gozio più, del servizio di sport, ci pensavo anche, che l'ha avuto un giorno possibile, l'altra Gatene, dopo ci sono le Gatene primate, come a Canale, qui se t'hanno i squadri mai, ma t'hanno i mesi magnifici, vedete, Vi dirò, vi dirò, giusto un aspetto, quando io facevo un marcio di futbolo, quando taglio cinque camera, era un mondo, oggi ne sono 25, e 26 camera, allora, fai tu un rapporto. È vero, quanti canali più cabine in sport, è vero, è vero. Ultima canzone di questa settimana, e ci ritroviamo. Sapeva, non tanta frequenza, con il Petro Gangioni, per continuare a finire, a poco a poco, le emissioni qui, giusto appunto, parlavamo di svarianti Gatene, di svarianti canali, oggi c'è il fenomeno, di noi, che tocca l'informazione normale, ma di noi, il sport, è l'informazione in continuo, se Gatene, come è un Fosport Plus, c'è, come di noi, l'Equip 21, il sport, 24, 90, 24, qui di noi, è un altro aspetto, di l'informazione, un'altra maniera, di ganchi, pilla, i cosi, giungi, nel poco a poco, poi se c'è, meno vento, ma infine, ci andiamo fuori, a dare informazioni subito. Sì, ma ci andiamo fuori, ma c'è una ripetizione, e questo, non ci andiamo a stare, un po' di un momento, andando avanti, quando siete stati 5 minuti, ti hai capito tutto, dopo non ci andiamo a ricominciare, metà l'attura, e questo è il problema, ma sono buono, io, 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 non sono mica, con tre giorni, io, che i giorni, sono meglio che noi, non ci andiamo a fare, se non andiamo con il tempo, di distorzare l'affare. Se io l'utilizzo di qui, come campetti, vi piace, o vi piace mica, è buono mica? No, è un mondo che è così, per esempio, se c'è internet, non ne ho mai internet, non ne ho mai bisogno di internet, non vedo come ciò che non ha già fatto, ma non sono mica contro l'embronno, non ne ho mai contro l'altro, non ne ho mai fatto, e non ne ho mai fatto, non ne ho mai fatto, non vedo come ciò che non posso fare, allora, ciò campano, ciò dice, un mondo cambia, non ciò mai cresce contro, ma si può essere un po' d'accanto, allora, perché ciò mi ha raggiunto a poco, in qualche parola, anche una minuta o due, un consiglio, io consiglio, maestro, in poche parole, a Sidioni, qui ci stanno assenti, piccoli gorsi, che si vuole lanciare, che vuole che ne sviluppare, o sarà strada? Allora, a me strada, non ne può nemmeno che sviluppare, perché io sono scarlato, un po' che parrazzarda, in un mondo che era defanente, ma ho solo cose che posso dire, cioè a mettersi nel capo in drento, come nel capo in una sacchetta, e un più figlio in accanto, e andassi fino a più po' l'è, ciò 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 che passa, ciò ciò che non passa a nemica, e qui si riunisce, si riunisce al sport, al sport che so, a gente che riesce nel sport, o a gente, c'è un po' speciale, cioè un campione è speciale, e quello che è meglio da qui d'altro, perché non ha fatto di più che da qui d'altro, allora ciò che fa così, e andrà, se ne ha avuto i sogni. Ultima parola, giusto appunto, è un affare di carissimo di noi, un carissimo. Ma questo è come un cinema, come tutto, ho piato l'uomo, non ho piato amico, o era marcando in la vita, non ho rimarcando amico, questo è un po' che vuole, un po' che va in onda, e un po' che non ho piato, un po' che non ho piato amico, perché è così, o passate un po' che non ho piato amico. E di noi un affare che non mi aveva vergogna, non manca la pena, chi è che aveva vergogna, di regola, un po' mica sbucca. Allora, per finire, va di anni un affare, noi abbiamo avuto la chance, noi abbiamo 20 o 30 a passare la televisione al libro, che lo seguo, attendo, al capo del momento, vuoi conoscene, e oggi sono 200 o 300, come volete che, oggi sono come un mandio, se ne servono un po' che due pietani. è vero, finisci a rimanata sa magia, mica troppo buona, ma è finita, sarà a vindi a nostra emissione, vi ringrazio tutti i ragazzi, per questi testimonianti, per questi buoni consigli, spero che li avete notati, oi tutti, che voi ci suitete in Alta Frequenza, tanto ringrazio, e grazie a voi. E ci ritroiamo noi un'altra settimana, per Sapefa, qui è l'emissione, per l'argetto 3, in podcast, audio e video, in AltaGheGheTafrequenza.com, a presto. Sapefa, tutti i giorni a 9h30, su Alta Frequenza.